Due auto coinvolte in un incidente Il incidente oggi, giovedì 24 maggio, intorno alle 13, invia Merlo a Rivarolo Canavese. Una donna di Rivarolo di 58 anni ha perso il controllo della Fiat Punto che stava guidando, la quale ha invaso la corse opposta e ha fermato la sua corsa contro una Renault Clio parcheggiata, con a bordo un 74enne residente a Torino che si stava accingendo a scendere dall'auto. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze della croce rossa di Rivarolo Canavese Castellamonte, i vigili del fuoco di Castellamonte e la polizia locale di Rivarolo. L'uomo è stato estratto dall'auto e ha fidato la cura dei sanitari che lo hanno portato all'ospedale di Cornier. Non è grave. Renault Clio, nell'impatto, è indietreggiata e ha tamponato una Ford Cuga parcheggiata. Mi ha chiamato io, che io mi spiace. Mi ha chiamato io, che io mi spiace.